c'erano due amiche, come è andata la festa delle donne e sta a fare un po' capire che cazzo mi è successo che ti è successo? mi sono andata a cena con amiche mie, mamma mia è arrivato uno spogliato che lì sta troppo bello, alto, muscoloso, mi hanno cominciato a far morire, alla fine ci sono uscito me lo sono portato a casa, mi ha spogliato tutta la nuova, mi ha buttato a pecora sul letto ti dico mi ha legato le mani al letto, che ti ha fatto? ti ha culato? tutto, a borsetta, a portafogli, a mortaggio grazie